e ne parliamo insieme ai nostri ospiti, Luca Ampollini, ciao, benvenuto. Ciao, ben ritrovati tutti, buonasera. Ugo Uca, difensore nato a Parma, nazionale, canto e stradiente, poi ne parliamo insieme, benvenuto. Antonio Cerdi, ben ritrovato. Buonasera. Mi raccomando, torno accanto a un... Siamo tornati a vedere ragazzi stasera. A pensare che ti riferissi a... Lui sarà un bell'uomo. Bene, molto bene. Riferisco le pere. Belle ragazze, bravissime ragazze, perché sono le ragazze della squadra femminile del Parma Calcio che ha ottenuto una super promozione in Serie C con tre giornate d'anticipo. Sono insieme a Luca Ferrari, ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, presentiamo, prima di tutto, Andrea Mazzini, allenatore e artefici di questo... Buonasera. Buonasera. Elena Minari, il capitano di questa squadra. Ciao, buonasera. Buonasera a Rossella Puzzi, Giulia Galvani e Demolmela Turzino. Ciao ragazzi, buonasera. Complimenti ancora, ma poi ovviamente avremo tempo di parlare con loro. Dietro le quinte c'è Gabriele Maio, ufficio stampa settore giovanile e femminile che ovviamente le ha accompagnate. Grazie.